Questa epidemia di Covid ha distrutto una narrazione falsa dell'Italia, divisa fra un nord e un sud, fra un nord efficiente e un sud incapace. Non è così, ma ha distrutto soprattutto l'idea stessa di questa Italia, indicando qual è l'Italia che deve essere, un'Italia che torni a riabitare e rivalorizzare le aree interne e il sud, perché l'unica possibilità che ha questo Paese di ripartire alla grande.